ciao a tutti oggi ho preparato queste ciambelline intrecciate guardate che belle la ricetta è la mia delle ciambelline alle patate a quest'anno mi è andata così volete vedere come si fanno seguitemi la prima cosa che dobbiamo fare è idratare i nostri fiocchi di patate che cosa sono è semplicemente il purè che compriamo in busta sono patate disidratate se non volete utilizzare i fiocchi di patate potete utilizzare al loro posto una patata media di circa 200 250 grammi che avrete precedentemente lessato e schiacciato per idratarli basterà versarli in una ciotola più ampia e aggiungere acqua calda le dosi sono 40 grammi di fiocchi di patate e 160 grammi di acqua calda date una bella rigirata vedete la consistenza è quella di una patata lessata schiacciata ma non ci sono grumi ed è quindi perfetta facciamola intiepidire versiamo 500 grammi di farina uniamo i nostri fiocchi di patate freddi e andiamo lì subito a lavorare aggiungiamo il nostro lievito disidratato sono 7 grammi una bustina praticamente ormai lo sapete se utilizzate il lievito fresco ne dovete mettere un cubetto è il momento dell'uovo versiamo grattugiate della scorza di limone bio io aggiungo anche un po del mio estratto di vaniglia ne ho messo anche le bacche 100 grammi di zucchero inizio a lavorare con la forchetta e vado ad unire un po alla volta il latte latte a temperatura ambiente oppure anche freddo va bene vado a mano è così sentirò anche se il latte verrà preso tutto oppure ne dovrò trattenere una parte dovremo ottenere sempre il solito composto morbido ma non appiccicoso ora lo trasferisco sul piano di lavoro metto un pizzico di sale e continua a lavorare non appena il sale si sarà sciolto vado ad unire un po alla volta il burro prenderò pezzettini di burro morbido e vado ad incorporarli ultima dose ci siamo l'impasto è pronto chiudetelo sotto e mettete a lievitare e dovrete attendere il suo raddoppio che avverrà in circa un paio d'ora abbondanti coprite e ci vediamo dopo guardate che bello l'impasto è pronto e adesso andiamo a realizzare le nostre ciambelline mettete l'impasto sul piano di lavoro guardate come si stacca bene perché abbiamo unto la ciotola ora dobbiamo ricavare le porzioni possiamo fare a occhio oppure pesare gli impasti sulla bilancia in modo che siano tutte uguali io le farò circa di 50 grammi luna infarinate leggermente proprio pochissimo e formate con ciascuna porzione un bel rotolino liscio lungo circa 40 centimetri cercate di farlo più regolare possibile dobbiamo fare una un incrocio in questo modo mantenere le due code esterne ok poi cosa facciamo con la coda che sta sotto si comincia e si gira sopra così con la coda che sta sopra si gira sotto fino a farla incontrare vedete queste due codine si incontrano le uniamo ecco qui e poi le rigiriamo e questa sarà la ciambellina che andremo a mettere sulla solita carta da forno ora le dobbiamo fare tutte potete anche farlo in mano io prima ve l'ho fatto giù per farvelo vedere congiungiamo e giriamo ecco qui tutte le nostre ciambelline pronte per un altro riposo coprite le e lasciatele così almeno una mezz'oretta e voilà sono pronte per essere fritte vedete hanno raddoppiato il loro volume e quindi si frigge a una temperatura di circa 170 gradi non tenetela troppo alta perché altrimenti rischiano di bruciarsi e rimanere crude ci siamo prendiamo le prime ciambelline quelle che abbiamo formato per prima vedete come sono belle allora li stacchiamo se riusciamo dalla carta e le mettiamo in padella chiudiamo sempre molto bene i punti di giuntura e se ci accorgiamo che si sono leggermente allentati durante la lievitazione chiudiamo lì così non si apriranno con l'aiuto di una bacchettina andiamo a mentre sono belle calde passatele nello zucchero in modo che possa rimanere attaccato ora ve ne apro una guardate come sono soffici ecco ma saranno morbidissime anche il giorno dopo grazie alla presenza delle patate se ti è piaciuta la ricetta metti un like sotto il video e seguimi se ti va sulla mia pagina facebook grazie